Sono Domenico Britti, docente all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Mi occupo di sanità animale, mi occupo anche di sicurezza degli alimenti di origine animale e soprattutto della loro qualità. Quando penso alla Calabria mi viene in mente che questa regione ha grandi risorse economiche, ha grandi risorse culturali, ha grandi risorse paesaggistiche, ma ha anche grandi risorse di giovani che ogni anno vanno a studiare fuori da questa regione e spesso non fanno ritorno. Questa è forse la più grande risorsa che ogni anno perde la Calabria, i suoi giovani. Bisogna fare rete, bisogna far capire loro che studiare in Calabria è una grande opportunità, è una grande risorsa e le università calabresi devono fare rete affinché i nostri giovani possano ottenere quella formazione utile su questo territorio affinché vengano sfruttate al meglio le risorse non solo agricole ma anche zootecniche. E soprattutto la parte agricola e la parte zootecnica rientrino in un'unica filiera economica forte che possa affrontare la sfida di questo millennio per rendere questa terra quello che può e deve essere una terra bellissima. Grazie.